E sono tutti pronti nelle gabbie di partenza. Partiti! E vantaggio Joa de Vivre davanti a Tomorrow People, Ieratico, Golden Thunder, Grit Ambition, Massimo Meridio, Saveniasse, We Stand By, Certe Notti, Misdada, Khartoum, Granzamire, Star of Gallese. All'inizio della curva è in vantaggio Golden Thunder davanti a Joa de Vivre, Ieratico, Grit Ambition, Tomorrow People, Winston Bay, Khartoum, poco prima dell'ingresso di Ture, in vantaggio Golden Thunder davanti a Ieratico, Grit Ambition, We Stand By, i cavalli entrano in dirittura con Golden Thunder in vantaggio, attaccato all'esterno da Ieratico, per linea interna e Tomorrow People, all'esterno Grit Ambition, seguono We Stand By e a centro pista Khartoum, in leggero vantaggio Grit Ambition, attaccato all'esterno da Khartoum, passa Khartoum davanti a Golden People, Granzamire, e il vantaggio Khartoum davanti a Tomorrow People, Golden Ambition, Granzamire, We Stand By. Eccolo qua, il favorito che è arrivato, Khartoum, Cristian De Muro, valeva allora quella quota. Adesso insieme a Piero, cerchiamo di tradurre i numeri. No, cerchiamo che Giannotti come viene a Roma non perde mai. Giannotti come viene a Roma non perde mai, dice Piero. Bisogna sempre giocarlo, bisogna sempre giocarlo. Bisogna sempre giocarlo, d'accordo, e gli facciamo i nostri complimenti, è ovvio, perché è anche una carissima persona. E poi presenta bene i cavalli. Khartoum è il numero due, Khartoum è il numero due, il numero sette. Secondo Tomorrow People. Giunge al secondo posto del Tomorrow People. Per il terzo posto... Al terzo è Granzamire. Il giudice ha deciso di ricorrere alla fotografia, ma noi... Terzo Granzamire, quarto... Sì, Piero, ho capito. Grazie a Laurente Pomponi, la possiamo già... Quarto, Grit Ambition, e quinto, Winston By. Il terzo posto a Granzamire. È tutto. La linea allo studio. Ci sentiamo domani, eh? Grazie.